Ciao No, sono uscito Io faccio Ma ti ho visto un'altra persona No, eh sì Che ti aiuta con il collaboro In italiano perché lui Io componevo ma quando ero 14 anni Jerry Monin che è Aiutami Thailandese Chi è che non conosce proprio niente di OPPT? Ho visto un video ieri Non so se vale Sapete cosa vuol dire OPPT? No One People Public Trust Trust vuol dire Finutina Però chi non ha niente è meglio ancora Come? Chi non sa niente è ancora meglio Va bene visto Perché serve per crescere Certo Ecco Invece chi ha mandato la prima pecca Ti chiedo giusto per capire Prima pecca è la prima pecca Io seconda Seconda Tu sei impeccabile Senti la prima? Sì Va bene allora OPPT 1776 Che cos'è? È un percorso di autodeterminazione Perfetto In ormode Io vi parlo Per me che cosa è stato Perché sto qua insomma Perché vi sto raccontando questo Perché secondo me la grande forza di OPPT è avere una componente spirituale e avere una componente materiale E dei documenti Dei documenti Dei documenti Dei documenti OPPT appunto sta per un gran tipo di traste 1776 perché ci sono stati tre trasti Cioè tre avvocati procuratori Che hanno Che cosa è? e cercherei di far parlare loro al posto nostro Sei felice di stare lassù? Manda che è la distinzione di giudizioni e la prescrizione di una prescrizione Se non è un po' di risposta Se non è un po' di risposta Se non è un po' di risposta, l'affidavit è restato unirbottito L'affidavit è restato unirbottito Se fanno una torata e si prendono una cosa rischiosa Diretta, non è un po' di risposta Se non mi è amaro o mi piace? No, non mi restituiscono tanto ciò che è l'universo Oggi, almeno almeno, ho messo a fare un piccino di settimana Lavorando sempre Il libro Il libro Il libro La scelta Il libro Oggi Il libro E' perché ho fatto... Anche con la bandina. Però è un'offerta. Ma l'avevi chiesto tu? No, no. E io te l'ho offerta. Hai offerto l'offerta. Ho offerto l'offerta. Sono un offertitore. Non è stata solo. Offertitore. Non è stata solo. Non è sofferta, assolutamente. È offerta senza la S. La S è discreggiativa. Qua esiste la giustizia. Che bello si vede. La giustizia fa molto. Ma del nord non c'è anche... Ma non c'è anche la signora Natale. C'era tutte queste cose. Tutte le nove le province. Ma c'è anche la signora Natale. Ma c'è anche la signora Natale. Non c'è o meno, non c'èersi c'era. Posso fare io una ripresa? Ok, vai. Metti qui là. No, comunque su YouTube c'è. No, io sono. Ci sono Barbara, ci sono degli altri. Vogliamo scegliere l'acqua? Sì, lo so. Non cambiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.